Bella a tutti da Porkmods, eccoci qua in questa nuova gara, questa gara è stata creata da NRDNCS, una cosa del genere regà, c'è loro che hanno sti nomi e non si capisce niente Guarda tutti i numeri, comunque, creata da RD, infatti si chiama BANTOLEVELASIAN Numero 2, numero 1 regà, non l'abbiamo mai giocato nel canale, io ho trovato solo questo Che mi ha taggato il creatore, oh regà, magari se andiamo avanti facciamo sto level asianino, che dite? Oh, che sta succede qua? Abbiamo creato un posto di blocco, io rimango qua, non me ne frega niente, no, andiamo, andiamo Comunque, guardate, questo è il colore Creon nuovo, che dovrebbe essere arancione, però E' arancione, però, però, se smetto di però è meglio, dai andiamo regà, stavo dicendo, sembra tipo rosso, è strano Lo devo cambiare, lo devo cambiare, voglio un arancione più fluo e più acceso, magari la saturazione, non lo so Andiamo, oh la miseria che è level asianino Con la BANTO è la prima volta che facciamo un level asian, interamente con la BANTO, anche perché non era multiveicolo, no? E' solamente con la BANTO Ehi, 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 che è successo qua? Mamma mia, mi stavo a infilare, regà Respondiamo, respondiamo Vediamo un po' se sarà difficile, facile, non ho visto se c'era scritto a livello medio o a livello hard Regà, dobbiamo girare, dopodiché dobbiamo andare là che c'è il check, ok Fino a qui ci siamo L'unica cosa è che dobbiamo stare dritti nella spirale Perché non l'ha doppiata, quindi è scivolosa Ok Sì, sì, ci siamo Vero? Vero? Non lo so Sì, sì No, no, l'ho nel letto di fuoco, sui Dai! Per pochissimo, regà, un cioio, che arete? Come devo uscire? Devo stare più alto, non lo so Allora, andate Ok Lo facciamo direttamente così Così siamo in traiettoria E adesso ce la facciamo Cazzo Adesso, ragazzi, ma starei dritti Se non ce la fai adesso, sui No Cosa ho fatto di male? Me lo spiegate Entro pure al massimo, manca di che rallento Non lo so Non lo so, non lo so Alberto Modder Alberto Modder, veloce Veloce Dai, regà, stavolta ci arriva, eh Eh, no, stavolta non ci arriva pure Dai, il check Ho preso il check, insetti tutti Che meraviglia Possiamo proseguire per il level asian Primero Eccolo qui, Paolo Non lo so Ce l'abbiamo fatta solamente io E Ant Paolo Quasi, quasi Ora spawniamo L'ho visto un ferrino, ma non credo che serva Anche perché dobbiamo andare là No Servirà per dopo, sì Andiamo Ok Qua, regà, dobbiamo fare veramente Una veramente No, quasi, quasi Regà Sì No, no, no Ci siamo, regà Mio Dio, se esplodevi qua Oh, le possiamo andare Possiamo andare Che cosa abbiamo Ok, credo che sia Così Sì, sì Respawniamo Bella, regà, la cara Level asian Con la pantolina, eh Fino ad adesso Solo io ce l'ho portata La fortuna Perché scingola Qua lì Ok Ok Sì, ci siamo Poi wallride fino Ok È facile fare wallride fino con la pantola Qua stiamo alti Perfetto Così Credo che ci siamo Facciamo esplodere tutto Quasi Oh Ok E adesso La pantola è leggermente distrutta No, no, no È tutto ok C'è che sta adesso Sì La freccia indica là Ok Così Oh, oh, oh Esci fuori Chi era? E respawniamo Respawniamo Credo che sia così Comunque Andiamo Ah, è arrivato KNG Gold Sì KNG Sì, ciao, regà KNG Gold E Ant Pouch Quindi dobbiamo fuggire, regà Oh, no, no Su Mamma mia, regà Cos'è successo? Non mi chiedete niente Non mi chiedete assolutamente niente Eh, vabbè Regà Fare la spirale con la pantola è difficile Mio Dio Veloce, 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 veloce Ok Rilassati Allora Hanno sbagliato quindi Possiamo Andare anche io Ho sbagliato Dai, regà È veramente complicato, eh Vediamo un po' Se ce la facciamo Dobbiamo fare quella spirale E poi entrare là dentro Ok Spero che ne crea altri Perché Va bene, va bene così Se no beccavo gli altri Stavo dicendo Spero che ne crea altri Perché Sono veramente belli I pantoli della asiana Sui Eccoli qua Andiamo Andiamo Ci giochiamo queste belle Vela asiana Tutti insieme Ok No No, regà Dobbiamo tagliare prima Qua È difficile Il problema è che Stanno arrivando tutti quanti Ok Sì Perfetto Sì, ci siamo Oh, oh Sui Sui Dove devo entrare Scusate Che non ho capito No, regà Non ce la fa entrare Là Dobbiamo uscire Bassi o alti Non ci voglio Credi Eh, lì È veramente Difficile Sui Ok Siamo vivi Non ho fatto male A nessun suino Ok Ci risiamo Qua Ok 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 Oh, io sono da lottissimo Sui Ma se mi prendi il check qui Mamma mia Ma da quando prendi check dentro al tubo Io mi ricordo che Anche se stavo sopra Non prendeva il check Teoricamente noi dobbiamo entrare là Mamma mia L'importante è che ci siamo Dai E qui cos'è Ok Ehi Ci siamo E saltare un turbo Di qua No Dobbiamo fare un 360 qui Ah ok Ripartiamo da qua Eh sì Guardate che 360 Ma regà Sapete che è veramente bella Questa E scivola tantissimo Allora Come possiamo fare Andiamo a full gas Va Che magari Esci Guardi Ok Sì Dobbiamo girare di qua E poi Così Ce la facciamo Eh sì però No Dobbiamo andare proprio là dentro Regà Ok Tipo così dobbiamo stare Oh così è perfetto Regà E da che ci arrivi Ok ok Perfetto Ci abbiamo messo un po' a capire C'è Alberto Modder lì trollato Poveretto Ce la facciamo Sì Tutto ok Io ancora mi devo sparare Una bella miniatura Spariamo un po' di miniatura a caso Tu sia almeno che vedo Quale è la migliore Eh Kiro Che Che sta a fa qua Mi lo spieghi Andiamo Belli veloci Ah Praticamente lui deve fare questa parte Sì E noi dobbiamo andare qua Scusami sui Ti giuro che Non sto trollando Non rispondiamo Non mi tampona sui Ok Aspettiamo un momento ideale Gira Boni E qui quando passo Regà Questo è veramente un problema Sapete È diventato un face to face Level asian Alberto Modder Ma ha superato No regà Era da avviare Senza collisioni Sui Aspettate Regà Momento di tregua Sì Momento qua Diciamo che ci possiamo salvare un pochino Oh mio dio Potevo passare Sapete Aspettate 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 È bello vedere queste panto Che vanno a 2000 Chi è quel suino educato Che si è fermato là Dai regà Pure Alberto sta qui Occhio Alberto Eh lo sapevo che ti prendeva Non va più retromarcia Regà Mettiamoci così Mi fate passare Grazie sui Te ringrazio Kiro Oh sui Ok Qua c'è un freno Ce l'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatto Mamma mia Ringrazio tantissimi suini Ma c'è pure Alberto Modder qui Oh mio dio No Ha saltato un freno Che level asian Ci stiamo giocando Regà Madre mia che meraviglia Oh Bello per questo trick Andiamo 12 mili di gara Ok Qua è così Sì Sì Ehi 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 Sali 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 Mamma mia ci siamo regà Belli veloci belli veloci regà Belli rapidi Meno male che siamo riusciti a passare Perché di solito quei cosetti Mi trollano sempre Quelli che chiamo io radar Invece sono tipo Delle paleoliche Dei tubi Ok Qua dobbiamo fare Eh non ci arrivo Oh sì Eh no Non ce la fa salire No Qua dobbiamo atterrare come si deve E poi possiamo andare avanti Allora Veloce veloce Che c'è super Alberto È già arrivato No non ce l'ha fatta Belli veloci Però non ho visto cambi Non ha messo cambi il creatore Ma io credo che con la Panto Si possono fare i cambi No 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 Aspettate eh Qui stiamo parlando però Quanto dura il level asian È quasi finito Cabrifico Riato Sui Sei ottavo Come fai a stare qua Questi sono i misteri Del reale Il boost c'è Abbiamo rallentato leggermente Ma il boost c'era eh No No regà Che mi sono mangiato In gioio Credo Sono ancora primero eh Però questa parte Non è facile per niente Comunque guardate che Big level asian Perché ho fatto Con questa bella Pantolina Ok Forza Atterriamo bene Uh Bello il boost Bello Bello Sali 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 Potrebbe eh Siamo pure belli alti Sì No colpa mia Colpa mia Cosa ho fatto Di male Alberto Motter Mi freghi da prima Era vero Andiamo Andiamo Che adesso ce la facciamo Capito leggermente Come mettere la macchina E come uscire da là eh Qua dobbiamo stare Un po' bassini No 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 Lì è meglio stare i centrali Dai regà Stiamo facendo tanti errori Proprio qua Eh sì Perché quella parte L'abbiamo fatta la prima Giustamente questa parte Ci devo mettere Almeno Sei tentativi Pure di più E se magari faccio Ste cose Quando ce la faccio Oh il boost C'è però Il boost Credo che ci sia Siamo andati pure Troppo alti Questa volta Non mi chiedete Come funziona GTA Per favore Che non lo so nemmeno io Oh E qua Io freno io freno eh Cos'è qui No non lo so Ok Oh Che parte è questa Il check ancora non c'è Ok Tubo E ora Check Ok ok Possiamo stare tranquilli Miniatura Miniatura Ok Oh Ci siamo Meno male che ho visto No 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 Sì Per miracolo Mamma mia Ci siamo e come Wow Bella questa rampa Andiamo giù Bella veloce Sui Ehi 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 Dobbiamo respawnare Qui Dobbiamo raccostare Areditor Dai ragazzi Dopo c'è il traguardo L'ho visto Della minimappa Vediamo un po' Come si vede La mica rampa Bella Qua però Dobbiamo andare piano Sì sì 16 minuti Di level Siamo con la pantolina Ok Piano 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 Possiamo proseguire Sì sì Aiuto Siamo vivi Tranquilli Siamo vivi Siamo vivi Tranquilli Ok Andiamo Altre Curvite Ci stanno Veloce Veloce Dove sta Alberto Motta Sta qua dietro Ragazzi L'ho fatta Però il nostro Checkpoint Sta esattamente Qui Sì sì Veloce Veloce Pantolina Dove è il check Eccolo qua Rigiriamoci Con stile Diciamo che non mi sono Rigirato bene Ma non fa niente Andiamo Andiamo Poi cosa abbiamo Palloni da calcio Alberto Motter Che sta proprio qua Regà No 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 Così 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 No No regà Che parte è questa Aspettate No no Sui 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 Giochiamo la garetta Qua non ci voglio Crede Mamma mia Che gara combattuta Con Alberto Regà Ok Vediamo Un po' Se ce la Vinciamo Sui No Anche lui Non ce l'ha fatto Aspettate 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 Ho aspettato Un attimo Ma io sono partito Bene regà Perché non c'è Arrivata Cioè perché abbiamo Sbattuto Non ha calcolato Tutto come si deve Dai regà Non mi può mettere Questo freno Alla fine Però eh Ok Vediamo Sì No pure Alberto Ce l'ha fatta Dai regà Regà Alberto No Abbiamo concluo Levelassian Insieme C'ho io Crede Mamma mia Che gara Regà Mio Dio Gara Fantastica Comunque Se vi è piaciuto Questo pantone Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Passate nel mio Secondo canale Big Pork E nel mio Terzo canale One Pork E noi ci becchiamo Al prossimo video Valla E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo